Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi economici in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto. Contributi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019 numero 42. Le istanze devono essere presentate alla regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro Sociale, Servizio Tutela Sociale e Famiglia mediante posta elettronica all'indirizzo che vedete in grafica. Possono presentare istanza per l'accesso ai contributi economici previsti dalla legge 42 le famiglie residenti nei comuni della regione Abruzzo quando ricorre una delle seguenti condizioni. Hanno al proprio interno un componente affetto da gravi patologie oncologiche a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 5 febbraio 92 numero 104 che necessita di trattamenti radioterapici, chemioterapici o altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle suddette patologie in strutture autorizzate dal Servizio Sanitario Nazionale. Hanno al proprio interno un componente in attesa di trapianto o già sottoposto a trapianto a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3,3 della stessa legge. Le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'annualità precedente possono essere presentate dallo stesso paziente o da un familiare che lo rappresenta o dall'amministrazione di sostegno laddove ricorra il caso entro il 30 aprile di ogni anno alla regione, dipartimento competente in materia di politiche sociali. In sede di prima applicazione ovvero per l'anno 2020 le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2020 a far data dalla intervenuta pubblicazione della legge regionale 42 del 2019 possono essere presentate entro il 30 settembre 2020. Entro il 30 aprile 2021 possono essere presentate le istanze di rimborso delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.